Agroalimentare e zootecnia protagonisti a Matera. Promosso dall'Associazione regionale allevatori di Basilicata insieme agli omologhi sotalizi di Calabria, Campania, Molise e Puglia, si terrà dal prossimo 31 agosto al 4 settembre nell'ambito di Matera e Fiera a Leva Expo Sud, una manifestazione dedicata all'agroalimentare e alla zootecnia finalizzata ad informare e divulgare i valori della produzione lucana italiana. L'evento prevede lo svolgimento di laboratori del gusto, convegni, mostre e degustazioni per presentare e fare apprezzare la cultura e la tradizione agroalimentare lucana e del mezzogiorno. E non mancherà anche la Notte Rossa a chiusura di Alleva Expo Sud. Gli allevamenti di bovini di razza podolica rappresentano per la Basilicata un'ulteriore opportunità di valorizzazione della filiera zootecnica di qualità e di promozione territoriale e turistica. Ha detto a Matera, nel corso della presentazione dell'evento, l'assessore regionale all'agricoltura Luca Braia. Alleva Expo Sud rappresenta un'occasione importante per far conoscere a consumatori e operatori della ristorazione, bontà e qualità di un prodotto certificato e genuino. Alleva Expo Sud, ha precisato il direttore di Ara Basilicata, Augusto Calbi, è una manifestazione che si articolerà essenzialmente in due momenti. Il primo dedicato all'agroalimentare ed il secondo dedicato alla zootecnia, con mostra di animali iscritti ai libri genealogici. In Basilicata, infatti, operano 500 allevatori con 25.000 capi di podolica, dei quali 14.000 iscritti all'albero genealogico. Lo svolgimento di Alleva Expo Sud, per far conoscere e valorizzare la razza podolica e la genuinità di carni e prodotti lattiero caseari, ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio di Matera, Angelo Tortorelli, rappresenta per la Basilicata una interessante occasione di promozione del settore e dell'offerta turistica che ha, nell'alimentare, uno dei fattori di maggiore attrazione per visitatori e buongustai.